buonasera a tutti ben ritrovati con la nostra rubrica di ipodismo e atletica insieme a moreno sinatti che buon appetito e buon appetito si insomma stanza ecco questa vedete sono le fasi finali del grand prix 2018 proprio in occasione della della consueta diciamo scena finale moreno che ormai è diventata storica diciamo così fra virgolette nel senso che molti proprio l'hanno apprezzata anche proprio per questa finalità che viene realizzata proprio alla fine a completamento diciamo di quest'anno il 38 gare è una scena che molti aspettano aspettano molti si iscrivono al proprio anche per venire a fare la cena finale però ecco diciamo che la cena finale è gratis per chi fa almeno dieci gare del grand prix e comunque sono hanno partecipato oltre gli atleti anche familiari e anche e anche altri atleti che hanno fatto il grand prix ecco intanto vediamo anche alcuni ospiti abbiamo visto prima il dottor vegni poi abbiamo visto brogi della cbr bernardini del csi del centro sportivo italiano poi qui e calil diciamo un pochino i personaggi che sono maggiormente distinti nell'arco 2000 2018 cardelli diciamo vecchia guardia che insieme agli altri ha vinto il titolo italiano di corsa campestre master e qui vediamo i protagonisti invece del grand prix nel centro sportivo scolastico e poi anche per quanto riguarda tutti i vari grand prix diciamo le varie categorie che sono disputate ecco che intanto dietro fra l'altro andava andava un anno di corsa un anno di corsa fra l'altro di due ore quindi veramente un dvd che è stato realizzato con tutte le manifestazioni dell'arco 2000 2018 e qui anche gli diciamo i nostri collaboratori ecco possiamo dire fra l'altro che il 2018 si è è stato veramente un anno particolarmente intenso moreno con tantissime manifestazioni anche ad altissimo livello sicuramente ad arezzo quest'anno ci sono state diciamo quattro grosse due in pista e due su strada manifestazioni insomma di un certo livello di un certo livello quindi e niente questa l'anno prossimo cioè 2019 ancora per ora staremo un po in stand by un po in pausa perché effettivamente fare tutte organizzate tutte queste gare così e non è particolarmente impegnativo e qui chiaramente già dopo finita la scena del grand prix del 2018 ancora siamo nell'anno 2018 questo qui il giorno dopo il natale con la corsa di natale che comincerà diciamo ha dato il via al grand prix numero 28 quindi ventottesima edizione del grand prix che oramai diciamo è consolidato e fra l'altro che stanno avrà un allargamento direi importante anche nel sia nel senese che nel fiorentino addirittura insomma quindi veramente tante gare che possono essere visionate sul nostro sito podismo punto tv già sono ben 33 gare pensavamo di farne un pochino di meno che stanno poi invece ci sono state richieste un po da diverse parti quindi siamo stati diciamo quasi non dico costretti ma insomma ecco abbiamo accettato compatibilmente con le esigenze anche diciamo del calendario di poter inserire queste gare qui siamo andate la alla corsa di natale che già comincia ad avere una sua collocazione ben definita insomma abbastanza partecipata e anche a livello di gli atleti molto molto quotata c'è da dire che questa qui è una giornata come tutti gli anni molto fredda anzi freddissima specialmente nella piazza dove c'è l'arrivo che c'è anche la pista da ghiaccio quindi è abbastanza insomma si stava abbastanza freschi freschini proprio e quest'anno però ecco abbiamo visto che sia gli atleti partecipanti sia anche tutto tutto diciamo l'entourage è stato una una manifestazione che ha riscosso tanto tanti partecipanti insomma anche gli organizzatori sono molto contenti hanno già detto che l'anno prossimo dovrebbe cercheranno di migliorarla e effettivamente ci sono le condizioni perché poi una gara in circuito in questo modo effettivamente aiuta a dare un pochino più di spettacolarità alla cosa poi il giorno dopo il natale insomma quindi tutto sommato queste manifestazioni che si effettuano dietro come Pasqua diciamo la Pasquetta come il primo dell'anno come il primo dell'anno sono tutte manifestazioni che sono impegnative ma al tempo stesso spettacolari insomma ecco sì perché tutti molti vogliono partecipare anche ce l'hanno fatto la sera precedente hanno mangiato troppo oppure non hanno dormito però mi piace fare questa gara che che non sono non hanno caratteristiche proprio di diverse però è una gara che viene fatta in quell'occasione quindi gente si approfitta diciamo di smaltire un po qualche tossina in più ecco per queste per queste competizioni e qui abbiamo avuto fra l'altro il personaggio che direi già per il secondo anno consecutivo vince questa questa corsa di natale lo vediamo nella testa della corsa ed è matteo cannucci del gruppo sportivo fiorino vedete proprio nel centro lì ma un gruppetto di testa comprendente gasmi metrius malvin e satigliano i due fratelli poi tartaglini annetti menonna ecco vediamo dietro in santo sia guidelli che annetti poi cian briello che dopo l'esperienza il terzo posto del grand prix sicuramente ripartito agguerritissimo poi abbiamo visto cristian taras che diciamo che parte bene nelle prime edizioni poi dopo anche lui qualche gara la perde insomma ecco però sicuramente sarà uno dei protagonisti del grand prix 2000 2019 era partito bene anche nel 2018 poi dopo non lo so la fidanzata oppure perché altre gare altre cose deve fare e qui abbiamo visto invece che si era ritirato del gruppo sportivo filippide e anche lui fa poche gare però sempre mezzo fortunato quindi ci ha provato però si è fermato ecco anche nel settore femminile abbiamo visto diversi partecipanti ma soprattutto diciamo già il livello comincia a essere discreto con le protagoniste del grand prix 2018 che sono stati sicuramente la volpi e la sanarelli ma oltre a loro e la lacrimini un altro a loro c'era scendi cenziana e poi c'era anche la belardinelli rientrata dopo qualche diciamo periodo di alternanza scorsi anni che reggiava molti più dalle nostre parti mentre quest'anno ha cariggiato anche in romagna hanno cariggiato quindi si ha scelto di fare altre gare quindi e che abbiamo visto i due fratelli metius che stavano tirando la la corsa quindi sentivano particolarmente in forma in questa in questa occasione quindi cerchiamo di fare il colpaccio diciamo e qui ecco questo percorso che è andare e andare diciamo in questo anello che permette di vedere da una piazza dall'altra tipo san giovanni valdarno sicuramente favorisce anche la presenza la partecipazione da parte del anche del pubblico che as può assistere sia da una parte che da quell'altra c'è da dire che questo dove vediamo adesso le immagini è tutto pianeggiante però andando avanti di circa un chilometro sale appena appena poi c'è una piccola discesa insomma non è non è tutto pianeggiante così ma abbastanza mossa come percorso e che vediamo proprio ecco la testa della corsa con cenni e bellardinelli che stavano conducendo la gara insieme anche all'altra atleta invece di grosseto che conducevano insieme quindi dopo vedremo quello che succederà proprio nella parte conclusiva della della competizione quindi vedremo un po quello che che avverrà ecco anche per quanto riguarda insieme siamo all'ultimo l'ultimo giro visto che a luci era partito e penso che penso che sia l'ultimo giro non ho visto le immagini precedentemente questo è metrici in terza in terza posizione quarto tartaglini secondo era casmi quindi l'atleta del racche della serica futura un giovane atleta che l'abbiamo visto anche recentemente in occasione delle della befana campestre essere fra i protagonisti di questa gara ma questa ne parleremo più avanti diciamo nella trasmissione ecco qui siamo per l'arrivo e ancora vedi fa il segno di tre di tre vittorie due consecutive metrius poi tartaglini poi ancora dietro vediamo anche giungere al traguardo satigliano poi a seguire e qui ci sono già primi doppiati come avete visto poi alessandro annetti che non demorde mai christian tars pure due personaggi poi a conoscentini vediamo che e qui vediamo la gallorini gallorini chiara del trail and field di di grosseto quindi che batte proprio la bellardinelli e poi al terzo posto vediamo la volpi francesca che anche in questa occasione diciamo supera la scenigenziana che non riesce nel finale a contenere gli attacchi che gli vengono da altre parti insomma ecco quindi sicuramente un gran risultato vedete la gente che poi arriva a seguire una dietro l'altra sono abbastanza diciamo molto vicini vediamo la scenigenziana poi scaglia gianmarco che l'ultime vittorie che ha fatto diciamo per quanto riguarda la propria categoria che intanto vediamo asia peccatini nel settore femminile ma è da qui poi le categorie nel giro di una settimana sarebbero cambiate quindi sarebbe stata c'è un anno di differenza quindi e quindi poi vedremo quello che accadrà anche in occasione del diciamo nel capodanno di corsa e della befana campestre ecco qui intanto vediamo il settore giovanile non particolarmente numeroso però ovviamente già la giornata dopo festiva e poi anche il discorso del freddo sicuramente hanno contribuito anche a non avere una diciamo partecipazione così preminente ecco qui intanto siamo passati invece un'altra giornata bellissima direi così non è mai stato così penso caldo perché qualche volta c'erano le grandine dalle parti qualche volta ha piovuto l'anno scorso pioveva quindi come stagione ci ha detto bene è andata benissimo anche anche questa partecipazione tante partecipazione veramente uno spettacolo quindi soddisfatti anche i veterani dello sport che ancora sia alle 10 e mezzo quindi già ha dato una mano in più ha dato una mano in più sicuramente anche ai concorrenti e qui ovviamente la presenza degli atleti l'atlete ruandese e keniano l'hanno fatto un pochino da principali attori che intanto vediamo anche alessandro dico anche graziano emanuele che è e dietro rivediamo dopo qualche tempo ai bel murad un atleta diciamo che gareggia con i colori della polisportiva policiano che nel 2018 non ha mai gareggiato quest'anno sembrava che fosse entrato in sordina invece l'abbiamo visto già dirompente nella prima gara di uscita diciamo del capodanno di corso come vedete qui ritmi già cominciano ad essere abbastanza diversificati a seconda delle caratteristiche al secondo chilometro circa quindi dopo dopo il viale quindi però direi ecco un grande successo proprio anche di partecipazione perché insomma quando si comincia a parlare intorno quasi a 300 arrivati insomma non sono pochi non sono ecco il primo dell'anno quindi considerando anche quello lì che non è una cosa da poco però è per molti è caratteristica insomma se facciamo l'esempio di dall'avo e rondoni oramai anche se non sono particolarmente allenati però è una consuetudine che il primo dell'anno però questa la fanno sempre il primo dell'anno la vogliono fare perché è un auspicio diciamo del proprio per per avere un anno particolarmente diciamo positivo ecco questa è un po la la filosofia e qui vediamo intanto gli tre cogliamo agi che ha vinto addirittura nel 2016 e poi gli altri atleti marocchini che si sono ben ice e poi zittoni che sono andati e qui vediamo invece mani la fascia e kip chumba i due atleti di testa che stanno conducendo questa prova direi grande performance fra l'altro il ruandese mani la fascia vinse anche lo scorso anno quindi passaggio addirittura alla quinto chilometro poi invece forse su quattro chilometri e nove passaggio molto veloce che addirittura poteva prevedere diciamo anche un record della competizione poi ovviamente come c'è stato detto anche in una intervista hanno un po ridotto le loro diciamo il loro il loro ritmo anche perché dietro non c'era non c'erano avversari che potevano e quindi hanno fatto una gara più di contenimento per poi darsi la battaglia nel finale quindi vediamo proprio la maglia gialla per quanto riguarda il ruandese vincitore dicevamo della scorsa edizione quindi almeno battere la tempo dello scorso edizione mentre che intanto vediamo un personaggio che pensavamo fosse un pochino accantonato invece è ritornata prepotentemente nella scena ed è gloria marconi grande atleta 50 anni addirittura sono cantine che ancora ancora diciamo sta dettando leggi un po è una delle più forti quindi escluso avranno tre giovani altrimenti è lei ancora che c'è avviene a un passato molto molto importante ecco dice dove essere anche la giornata nani che dovrebbe essere un po la protagonista poi invece diciamo ha dato forfè mentre alle sue spalle vediamo anche le altre atlete e poi la gianotti tiziana che lei non giovanissima però ancora ancora nella breccia e poi la strella ovviamente è presente in questa e poi la poesini qui intanto vediamo la gloria marconi ripresa diciamo è ancora la sua corsa è molto fluida considerando leggera poi si appuntiamo vestito la maglia azzurra per diversi anni è stata lì lì per poter vincere una scalata al castello che gli manca nel suo palmarès forse l'avrebbe apprezzato tantissimo perché ha sempre avuto questa questa voglia diciamo di vincere la posizione è stata la terza e quinto invece vediamo ecco vediamo graziani mori e poi ai murad che lo vediamo atleta che è ricominciato anche questo viene da un passato direi forte insomma molte gara ha vinto quindi poi zituni qui vediamo ai ceccoli gli altri due marocchini che stanno inseguendo ancora avanti la gara e che c'è l'allungo deciso proprio di maniera fascia nei confronti del suo diciamo compagno avversario kip chumba ecco qui vediamo l'allungo deciso lo vediamo proprio un'azione molto perentoria da parte delle del rwandese con la parola che saranno qui acqua la metri all'arrivo è anche anche più forse anche più forse qui invece siamo nel rettilineo lunghissimo quello prima di portare al traguardo è ancora sempre maniera fascia che però ma c'è sempre che il distacco quindi tutto sommato non è che abbia guadagnato sembrava che guadagnasse ancora di più oppure che cedesse di più dietro comunque c'è un bel vantaggio sì sì no no l'azione ci sembra molto decisa quella da parte del ruandese che si che poi questo è un tratto di strada che non ti nascondi mai quindi sei sempre sotto pressione che vediamo qui proprio la volata finale vedete che c'è l'astricato che addirittura poi va a battere il record che aveva lo scorso anno che era sopra i 40 minuti 39 49 quindi di una ventina di secondi toglie il eccolo che vediamo a braccia alzate che va a vincere e direi anche in grande spettacolo anche il pubblico presente in questa occasione quindi una giornata positiva sotto tutti i punti di vista al secondo posto filemon kip chumba atleta kenyano staccato di una decina di secondi poi il terzo posto per questo marocchino josef aic e poi al quarto posto jones zitoni mentre quinto l'intramontabile mohammed agi ecco intanto il terzo ai c'è poi dopo zitoni ormai le posizioni erano abbastanza acquisite quindi nel finale vedete che alcuni non non può non provano neanche a batta diciamo ad aumentare il ritmo e che vediamo diciamo non più giovanissimo anche lui è però ancora sempre nella breccia insomma ecco quindi vediamo proprio mohammed agi atleta sempre anche tre del marocchino e poi al quinto posto al quinto al sesto posto ai bel murad e quindi anche lui oramai acquisita la posizione quindi non ha forzato più di tanto però soddisfatto ovviamente della sua prestazione perché anche lui era assente dalle competizioni da un annetto e qui vediamo la lotta diciamo per quanto riguarda gli atleti più o meno italiani vediamo l'atleta della trerica toscana trerica futura che è un rumeno gergut emmanuel daniele però giovanissimo anche lui molto forte poi emmanuele graziani e qui la lotta per il nono posto forse ingenuamente morì ora è quasi morì c'era l'inizio poteva arrivare tranquillamente non poi si è lasciato andare pensando che poi una premiazione fosse fino al decimo invece arrivano fino al nono quindi vediamo che l'arrivo di questi concorrenti ovviamente uno controlla quelli che li seguono per non esagerare più di tanto che c'è da dire anche cassi e morio morì al primo anno promessi giovanissimi sono e qui intanto vediamo ecco la la gloria marconi ancora in spinta addirittura con un ottimo direi anche con un ottimo tempo che va a realizzare insomma sotto le 50 minuti quindi grande risultato anche per la gloria marconi che arriva insieme a mirco refi quindi anzi lo batte mirco refi poi vediamo uno centini e poi ci dovrebbe essere anche la seconda che la tiziana gianotti anche lei non più giovanissima insieme a basile salvatore e poi vediamo ancora ecco vediamo che si susseguono poveri e poi chiudiamo la diciamo la mingerlina chiamiamola così ecco la mingerlina claudia astrella della tre rica castello che si posiziona al terzo posto e poi anche lei non più giovanissima la rumena italo-rumena la anananu che arriva al quarto posto che intanto vediamo le volate che quasi travolgono la strella e qui lana mano ecco che si posiziona il quarto posto mentre al quinto posto passo forse troppo troppo balzellante per la federica poesini che forse poteva ecco potrebbe potrebbe diciamo sia non è risparmiare un pochino più nelle proprie nelle impostazioni molto elegante avere da correre però efficace lo sforzo però efficace la vediamo ecco un burroni si e poi ecco vediamo dietro costali per quanto riguarda e al sesto posto la bellardinelli roberta bene e adesso siamo passati a domenica scorsa moreno la domenica direi diciamo confortata da un tempo sportiva è stata fortunata sì una volta tanto ha trovato le condizioni atmosferiche questa massimo una giornata un cross in questo modo direi non si trova molto di frequente e qui siamo partiti alle 14 e 15 con il cross master amatori maschile e femminile diciamo quasi un centinaio di atleti che hanno preso il via a questa a questa gara moreno ma direi che è stata una gara anche questa di molto molto battagliata sì c'era qualcuno che era abbastanza non era non sono amatori però dall'età che c'hanno possono fare anche gli amatori e comunque è stata battagliata anche se c'era già un vincitore prima di partire il percorso era di circa un chilometro il percorso da ripetere tre volte percorso abbastanza impegnativo però che scorre bene sali sali scendi e poi c'è un po di pianura però ecco non ha un attimo di respiro ecco direi che è stata anche poi una gara particolarmente spettacolare anche da detta proprio anche dai da molte persone che vengono anche da fuori provincia abbiamo la versilia abbiamo l'umbria abbiamo fiorentine cioè quindi apprezzando apprezzando molto il percorso l'organizzazione che è stata direi in questo caso fortunata ma impeccabile ci siamo impegnati il tempo contribuisce sempre a farsi che questa cosa vedete anche il terreno era un prato era un prato quindi veramente uno spettacolo erano i mille metri ogni giro circa e quindi questo tre chilometri sicuramente non sono così dispersivi come a volte può capitare una gara 10 chilometri anche se diciamo erano molto ravvicinati un po i vari i vari partecipanti vedete anche tra il pieno ultimo diciamo questa lunga lunga fila determinata proprio dal ritmo impresso dalla dal battistrale in questo caso qui cristian taras che ha preso decisamente il comando e ha fatto ha fatto e anche lui è un più 40 è un quarantenne però è cominciare di 40 anni apposta quindi comincia comincia ad andare ecco qui vediamo un altro tratto molto spettacolare del percorso questa divagazione tra gli olivi che sicuramente dava un po di respiro si è il punto più bello da correre perché qui due di meno fatica è in discesa e al tempo stesso per vedere è spettacolare poi come dice qualcuno questo è il percorso era solo di quasi un chilometro però si vedeva tutto si vedeva quello che succedeva e poi allenante anche come percorso perché considerando tutto esatto quindi qui è una variazione di ritmo naturali molto spesso quando si va nei cross cercano di mettere c'è a volte degli ostacoli qui invece era già da sé il percorso molto vario e quindi è chiaro che permetteva anche agli atleti di allenarsi quindi di poter spingere in maniera adeguata e qui vediamo il ponticello ecco quindi vediamo che abbiamo visto cristian taras e poi cavanelli che è andato molto forte l'atleta della pristica al campino cian briello poi pastorini che era partito forte poi dopo un pochino ha sceduto anche lui sai sono ritmi che poi nelle distanze brevi li devi mantenere come se fosse una gara in pista gianni david è andato molto bene poi refi basile vediamo cassini ecco poi ancora abbiamo visto anche sisi giovane atleta diciamo nuovo della polisportiva polisiana poi cucco abbiamo visto in precedenza ecco qui a seguire vediamo marchetti percorso sicuramente non che non si annoiava nessuno insomma ecco in questo caso intanto vediamo stefano sinatti insieme a orsini poi i volpi poi vediamo la tiberi lucia lacrimini anche qui lotta serratissima con la volpi volpi francesca ovviamente un pochino a dettare le passo vediamo attardata un pochino di più la nicoletta sandarelli che poi dopo nel proseguo della gara si diciamo si riavvicina su porta c'è le gambe corte non può andare tanto forte che vediamo anche nella sassi e poi insieme a lisi è andato più piano poi sessantenne anche con i verani che fra l'altro avrà la sua epilogo il il 20 di gennaio con la corsa del sige a monterigioni due distanze una di 10 ora 19 chilometri e quindi sicuramente anche per fare una forma promozionale ma al tempo stesso per gareggiare anche lei un'altra atleta e gareggia molto poi vediamo salvatori bignardi poi ecco abbiamo visto fabanelli e intanto lì è passato anche che oltre che cristian taras anche banelli ciambriello che si è fatto sotto in questo caso che ha superato anche pastorini che adesso accusa un pochino forse il ritmo troppo forte impresso all'inizio della gara poi ecco si fanno sotto cassini e basile poi insieme a cucco anche poi giannini giannini anche forte ha perso qualche colpo rispetto al presidente poi mattoni ecco poi burroni poi della lunga vedete il susseguirsi diciamo da parte di questi concorrenti che ovviamente hanno trovato in questa gara forse una specie di corto veloce insomma ecco un corto veloce c'è da dire che molti atletti di Arezzo non partecipano a questa gara perché non sono abituati a fare queste gare qui quindi sicuramente hanno preferito fare altre gare c'è da dire che effettivamente a me piace la campestre però sono schiantato subito non è che non sono adatto per fare le campestre queste sono gare da vedere anche spettacolarmente in un percorso in questo modo però diverti pensa che una giornata a questa maniera fa piacere correre così siamo stati fortunatissimi e ogni tanto qualche volta ci vuole ecco che vediamo anche Gibina Milcare che è sempre 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 più fatica però è 81 anni quest'anno insomma quindi si sente intanto abbiamo visto Tiberi poi Lacrimini poi ancora a seguire poi vari atleti ecco Milani poi Oretti Cicerone poi Sanarelli Nicoletta ecco via via si susseguono poi vari vari concorrenti qui diamo sempre un altro scorcio su questo su questa diciamo passerella l'anno prossimo noi faremo più largo sicuramente forse questo per quanto riguarda poi la gara ci metti il primo giro è un pochino dopo dopo siamo niente ma il primo giro rimane un po qualcuno che parte forte rimane un pochino ecco quest'anno abbiamo un pochino ridotto anche il chilometro inserimento degli atleti nella vigna e quindi questo ha fatto sì che proprio si vedesse proprio uno spruzzo un tratto soltanto breve di questa di questa vigna però il bello forse sicuramente l'olivi e il casottino insomma questa variante qui vediamo proprio la salì quando scendono quando scendono e poi vanno a entrare in mezzo agli olivi quindi sicuramente un grande spettacolo addirittura già anche in questo caso che sono doppiati ci sono anche doppiati quindi pensando che sono tre giri soltanto però i ritmi impressi dalla testa della corsa e dalla coda c'è la differenza 20 anni e 80 quindi certo certo anche quello sicuramente influisce al buon funzionamento della competizione una giornata a moreno che era partita alle 14 e 15 con questa gara qui poi è stato un tutto seguirsi di gare poi vedremo un sacco di gare quindi veramente un grande spettacolo insomma circa 400 e oltre atleti che hanno preso parte le varie competizioni significa veramente invadere il campo della polisportiva policiana non soltanto che vediamo l'arrivo sempre vittorioso di cristian taras che proprio arriva nel centro della polisportiva poi al secondo posto per luca banelli della politica campino terzo posto per giovanni ciambriello quarto posto volata finale fra basi di salvatore e cassini poi abbiamo visto refi e pastorini poi arriva cucco sisi gianni della lunga ecco che vediamo prozzo antonio che quest'anno si è messo in testa di potere competere a calvi agio stessa anche tutte due argento si al primo alla primo andrati quest'anno quindi i nuovi entri si che ne vediamo e tanto vediamo che l'arrivo di francesca volpi insieme a monnanni poi vediamo la tiberi che non demorde mai ecco c'è stato un recupero da parte di sanarelli e lacrimini che hanno un pochino recuperato nella parte conclusiva della gara ecco qui vediamo proprio susseguirsi gli atleti nella zona dell'arrivo e direi una giornata proprio calda e qui vediamo la partenza delle gare del settore giovanili abbiamo visto clara severi partire fortissima questa atleta giovanissima della politica di policiano che si è che però vedete ancora corre molto bene corre considerando tutto è andata fortissima anche quattro anni si è andata fortissima è andata ma soprattutto lo spirito che hanno un po animato questi ragazzini questi erano guardate qualche che che ganzata insomma c'è veramente uno spettacolo di queste di queste bambine sono partiti anche i maschietti vedete qualcuno deve spingere dietro per dire ma dovete correre poi guardate qualche grinta anche questi mazza guarda che passettini brevi però rapidi è veramente uno spettacolo vedete qua che che cosa si si va a vedere ma questi sono bambini da due tre anni addirittura vedete guarda che grinta questo mazza ragazzi questo è andato fortissimo è andato veramente grande spettacolo per questi ragazzi c'è anche molto pubblico comunque a vedere molti genitori questa è stata un'altra delle cose importanti proprio anche alla luce proprio delle oltre che del risultato tecnico ma ecco vedete proprio una giornata di festa una giornata di festa e chi vediamo ecco arrivi che si susseguono nella nelle gare del settore generale esorgenti esorgenti c esorgenti sono atleti dal 2010 2011 poi dal 2012 2013 poi 2010 2011 esatto e qui c'è stata la vittoria dell'atleta di sansepolcro su beccatini asia che era diciamo quest'anno cambiando la categoria ha avuto diciamo qualche problema ecco che vediamo e quell'altra categoria e qui intanto vediamo ecco gli arrivi vedete anche questi queste bambine veramente uno spettacolo qui siamo ai maschietti addirittura guardate ecco percorso fatto proprio intorno alla sede della polisportiva circa 200 metri che però ecco hanno corso senza avere nessun fastidio da parte anche dei dei genitori questa è la cosa fondamentale cioè hanno corso secondo le proprie potenzialità al dirà che poi avessero ovviamente incitato i i propri i propri figli o propri nipoti per questa per questa competizione e la spassa non si preoccupa ecco moreno fra l'altro questa qui è la terza è la terza prova del circuito del grand prix che quest'anno è partita subito con addirittura domenica saremo a firenze a grassina per la quarta prova e poi la quinta prova a monterigione per il sigerico 15 voglio dire cinque gare del grand prix addirittura nei primi 20 giorni dell'anno poi c'è un po di pausa e poi si ricomincia marzo si ricomincia il 3 di marzo per quest'anno la mezza maratona di fucicchio che sarà inserita sul circuito del grand prix quindi veramente anche si è allargato un pochino questo raggio d'azione ecco che vediamo ancora atleti che stanno andando forte ritmi ritmi a seconda diciamo delle varie delle varie fasce d'età ma soprattutto diciamo che che è un pochino più allenato permette altri altri ritmi si esatto e qui e qui vediamo la volata finale ecco qui l'atleta dell'atleta di cassestini che proprio a battere la l'asia peccatini ecco qui poi veniamo mercati vediamo ecco altra atleta che è sempre stata presente un po nel circuito delle del grand prix e qui la volta dei maschietti anche qui direi che anche queste partenze moreno sono state particolarmente anche numerose considerando tutto è perché erano c'è c'era molto cento e molti ragazzi anche fuori provincia quindi ecco e questi hanno contribuito a fare il gruppo più più numeroso e c'era poi vedremo anche delle categorie successive ci sono dei personaggi che sono che hanno dei nonni e dei padri insomma che hanno un trascorso di atletica insomma abbastanza importante qui vediamo vediamo che ecco ovviamente qualcuno ancora non è particolarmente preparato però ecco queste prime anche questa prima di prima prova diciamo dei promo cross a livello anche provinciale permesso a molti ragazzini della provincia d'arezzo di potersi cimentare e quindi poter provare subito una competizione come la befana campese che ormai è abbastanza collaudata insomma era una manifestazione che sono 35 edizioni ecco qui vediamo per l'arrivo abbiamo visto falini che proprio va a vincere proprio nel finale una volata lunga finale veramente entusiasmante cioè abbiamo visto addirittura delle proprio delle delle battaglie fra concorrenti questo significa un'altra un'altra gara particolarmente intensa che si ecco questi aumentavano un pochino le distanze perché cominciava si cominciava andare nel percorso più più grande quindi erano gli esordienti a 400 metri questi 800 metri due giri vedete chiaramente il primo giro un pochino di studio poi dopo quello successivo sarebbe sarebbe stato abbastanza più consistente quindi è che poi anche gli appoggi tutto sommato con il passaggio anche di del taglia diciamo un taglia erba che c'è stato precedentemente ha permesso anche di appoggiare più facilmente benché in un tratto delle del campo più basso forse era più impegnativo si era però sommato ancora reggeva bene le cima allora non l'hanno fatto questo percorso questo tratto più basso hanno fatto solo chi faceva cross e lungo quindi siamo alla gara più lunga ecco c'è c'è le appoggi erano la gente mi sembra che molti hanno corso senza scarpe giudate perché era sicuramente benissimo senza scatti alcuni hanno voluto correre con le scarpe giudate però direi che tutto sommato forse non era estremamente necessario ecco poter forse correre con le scarpe con le scarpe giudate però chiaramente oramai è qualche una mentalità con le scarpe giudate che è stato sono state tolte le scarpe ammurate si è apposto dopo lo vedremo nella nella partenza diciamo degli assoluti qui intanto vediamo l'arrivo dell'atleta della dell'avesi di sansepolcro e qui che batte l'atleta della strozza capponi che anche questi atleti che ormai ogni anno sono presenti per questa bellezza esatto per questa competizione ecco via via si susseguono un po i vari arrivi vediamo miriam fa cara poi ecco via via completano tutti la propria la propria gara direi comunque sia tutti abbastanza preparati però ecco non abbiamo visto a volte si verifica partenze veloci poi dopo qualcuno crolla insomma le gare scolastiche ma anche qui qualche volta si può verificare ma abbiamo partecipa chi è insomma sono già un pochino preparati ecco qui partenza qui avevamo un atleta figlio d'arte o diciamo la famiglia una stirpe d'arte che di sant'angelo questo che viene da fucecchio quindi c'è anche ha una grinta allucinante insomma pensavamo che a volte non tenesse e quindi ancora proprio con caratteristiche particolari la scuola c'è la buona quindi è più facile percorrere corre corre meglio perché c'ha dei suggerimenti c'ha tutto sicuramente chi viene esatto ma poi l'impostazione ce l'ha ecco dopo chiaramente bisogna vedere la voglia ancora sono piccolini questi e quindi diciamo non bisogna avere mai fretta su queste categorie però lo vediamo proprio abbastanza grintoso insomma questa in questa circostanza vedete già si deniano anche le le varie i vari stacchi questo sono 800 metri ma sono abbastanza tosti anche questi che si salita e discesa anche loro sai quindi percorsino che si sente però sono abituato a fare le volate ma insomma eh no qui poi le distanze più o meno erano abbastanza precise quindi a volte a volte facevamo insomma distanze poi arrotondiamo invece in questa occasione qui andiamo a fare però vedete guarda come spinge spinge forte mazza veramente grande una grande vantaggio una grande impostazione vediamo un po comunque sia ecco anche gli altri si sono tutti dati da fare è per cercare di ottenere diciamo il miglior risultato possibile e vediamo ancora ecco anche le volate anche nelle retrovie questo fa ben sperare diciamo anche per il futuro questi ragazzi che poi entreranno a pieno titolo sul panorama agonistico delle dell'atletica leggera speriamo che non si sciupino strada facendo perché detto che come diciamo sempre però sembra cioè fino a questa età qui sono tutti i volontari rossi sembra si impegnano dopo non lo so perché è il motivo perché dopo probabilmente necessita anche più allenamento più sacrificio probabilmente c'è proprio anche in fase allo sviluppo proprio della persona cambia qualcosa che intanto ecco gli arrivi di questa di questa categoria che precede un pochino le categorie quelle un pochino più interessanti diciamo che già si avvicinano alla parte più competitiva che saranno la categoria ragazzi cadetti che chiaramente sono al primo gradino per poter poi procedere in un'azione futura importante che vediamo proprio la partenza della categoria ragazze particolarmente numerosa perché addirittura 24 le arrivate in questa categoria insomma qualche volta nel settore giovanile nelle gare su strada 24 sono complessivamente tutti quindi veramente grande prova c'è da dire che le società del fiorentino del livorno di grosseto curano bene specialmente le campestri certo certo e chi vediamo ecco l'atleta che probabilmente la vediamo al comando attualmente zoe cirina della libertas runners livorno che conduce questa prova a un ritmo anche abbastanza sostenuto ma vediamo anche dietro comunque anche le altre ragazze che ovviamente hanno una buona corsa quindi non è che si lasciano particolarmente andare insomma ecco vediamo proprio una spinta lunga poi alle sue spalle vediamo che c'è viola paoletti della pro sport di scandicci poi giulia bernini della trerica futura che stanno diciamo tallonando la testa della corsa ma ancora anche qui la gara era lunga cioè due chilometro due giri da 500 metri ovviamente si fanno sentire con questa salitella iniziale qui vediamo proprio l'arrivo della concorrente eccole qua che stanno giungendo al traguardo una dietro l'altra quindi frazionati di pochissimi di pochissimi diciamo centimetri poco più insomma quindi veramente grande grande performance da parte di queste ragazze e qui il sole come vedete ve le immagini si bisogna cambiare bisogna cambiare l'arrivo effettivamente le immagini non sono limpide non sono come da quell'altra parte per l'appunto c'era il sole proprio in questo momento qui c'è sempre pomeriggio o si cambia si prende l'immagine in questo modo o si cambia ecco qui intanto vediamo siamo passati alla categoria ragazzi e anche questa un'altra gara una ventina di atleti questo è molto forte questa atleta qui qui vediamo un atleta proprio di casa nostra nel senso un aretino che ha tirato anzi due aretini che hanno diciamo un pochino impostato la gara e sono filippo martini francesco elia luzzi che poi dovevano vedersi da altri atleti la casta infranchese eccetera ecco qui intanto vediamo proprio l'atleta di sansepolcro filippo martini a condurre la prova fin dalle prime battute però ancora la gara anche qui era molto lunga si è sempre stato in testa è scuso un attimo un tratto dopo però nel finale si è si è impegnato ecco che dovrebbe essere la volata finale vedete fra i due atleti fra martini e luzzi la spunta martini proprio nel finale è perché era stato superato da ad aluzzi poi terzo posto per ettore mori poi donno giacomo al quarto andrea masi al quinto lorenzo castrini mugna elia gialli alessio e poi d'ascoli leonardo peruzzi daniele primi dieci ecco qui vediamo giungere al traguardo un po tutti gli atleti di questa di questa gara e qui siamo passate la categoria cadette quindi diciamo il gradino quasi prima delle del settore assoluto in questo caso qui e che vediamo ecco questo tratto iniziale qui abbiamo visto un atleta direi particolarmente forte perché questa atleta giovanissima zoe orsolini dell'atletica grosseto banca tema guardate che fisico che ha molto longilineo poi 25 2004 questo è un 2005 quindi primo anno quindi molto forte effettivamente ha dato già subito un'impressione che nelle prossime gare regionali che ci saranno che sta qui sarà la terza batte questa sembra anche in pista questa è forte questa è molto forte dietro margherita violani della libertas runner rivorno poi valeria rossi della teleca carenzano quindi tutti atleti provenienti diciamo da fuori provincia qui abbiamo visto la già da cicerone che purtroppo diciamo ancora è un pochino indietro ovviamente si dedicherà più alle gare di velocità quindi lascerà un po il mezzo fondo che non la soddisfano da un punto di vista proprio mentale più che altro ma qui vediamo l'atleta veramente uno spettacolo questa atleta che sta correndo a falcate ampie ma molto decise qui ecco questi piccoli avvallamenti che ovviamente se non sei preparato accusi accusi notevolmente non è costante il ritmo quindi continuamente devi devi cambiare e pensare che stai proprio questi avvallamenti sono qualcosa di positivo e qui intanto vediamo l'atleta che sta scendendo giù molto bene benissimo queste immagini sono stupende direi e fra l'altro il montaggio di luca sono stati veramente sono di fabianelli e di di falomi però ecco effettivamente permette con questa limpidezza anche delle diciamo della giornata di fare veramente immagini belle ma poi di vedere un pochino tutto il percorso quindi in questa maniera lo vedete tutto lo vedete il percorso di quello che sta diciamo si è si è realizzato in quel di policiando nella giornata della pefania dell'epifania insomma ecco qui vediamo l'ultime l'ultimo tratto di questa di questa gara 1500 metri tre giri di questo tracciato che ha dominato questa zoe orsolini dell'atletica grosseto banca tema su margherita bogliani poi valere rossi già da connelli francesca vinti arianna ballini emilia mugnai denise franceschini al nono posto già da cicerone e al decimo martina san marrone questi sono un po le prime dieci atleti che hanno completato diciamo la gara insieme ovviamente tutte le altre che poi facevano parte di questa di questa categoria tanto si vede un po di fumo che veniva si intanto ecco anche approfittava di mangiare le salsicce quante al momento e quindi anche questa forma di ristoro così diciamo in in zona ha sicuramente aiutato anche anche perché molti non avevano mangiato quindi per poter gareggiare una merenda positiva cioè strategica intanto ecco qui vediamo la partenza della categoria cadetti anche qui 22 gli atleti alla al traguardo anche qui lotta serratissima direi fra due atleti che pensavamo potessero darsi battaglia effettivamente è stato così perché già marco rossi dell'atletica volterra e samuel 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 dell'atletica futura sapevamo che uno dei due potevano essere protagonisti ma samele samele sicuramente pensavamo quasi ce la facesse forse distanza un pochino breve un chilometro e mezzo al secondo anno di categoria quindi sono che ora se la giocano però viaggiano tutti e forte e nasce da dire che qui c'era anche zanti samuel e che vogliamo passare adesso che è primo anno di categoria e sicuramente quest'anno sarà uno dei protagonisti qui in toscana è più giovane di un anno rispetto a loro però sicuramente si darà da fare si darà da fare sì sì non sono convinto anche lui è abbastanza determinato che intanto vediamo samuel samuel che lo conoscevamo da quando era piccolo che faceva le corse su strada ora cresciuto tantissimo e adesso deve trovare la un po l'equilibrio ecco intanto vediamo samuel e zanti che sta transitando l'equilibrio per potere diciamo esprimere tutta la potenzialità che ha sicuramente l'ho visto corre l'ho visto c'è una falcata troppo lunga può darsi un po troppo lunga che non reagisce un passo ecco mentre vediamo qui questo c'è un marco rossi è andato molto forte ma sai piano piano si deve ancora un pochino migliorarsi è cresciuto probabilmente anche troppo a livello fisico quindi ovviamente dopo anche certe certe sinergie vengono un pochino anche squilibrate qui intanto vediamo siamo realizzanti anche lui è cresciuto tantissima c'è il periodo diciamo della crescita pertanto bisogna vedere quello che avviene in questa in questi momenti diciamo biologici di trasformazione e qui ecco ancora ultime battute per quanto riguarda la testa della corsa ci ha provato fino alla fine anche per samuel e samele a riprendere gianmarco rossi però non è riuscito nell'impresa insomma ecco deve essere un'impresa effettivamente però ecco cioè vedendo queste immagini effettivamente è stato piacevole anche per il pubblico che ha potuto veramente vedere tutto tutto il percorso nelle diciamo sulle sfaccettature migliori che ci possono essere e che vediamo la parte dovrebbe essere la parte conclusiva di questa di questa gara intanto vediamo che il refi francesco ahimè si è fatto diciamo doppiare in questa in questa occasione che vediamo la volata ci ha provato samuel samuele ma è già marco rossi era nettamente più forti in questa occasione terzo posto per ettore iozzelli della lega calenzano quarto posto se ad in bellezza della axe di perugia poi emanuele papi al quinto posto gargani al sesto zanti al settimo ottavo paoletti nono montellassi e decimo verdi e qui siamo passati alla gara del cross corto prova del campionato del campionato toscano si di cross corto e poi anche valida come terza prova del circuito del grand prix anche qui diciamo lotta serratissima addirittura abbiamo visto l'abbiamo vista protagonista alla capodanno di corsa e quindi la vediamo di nuovo che il protagonista addirittura a dettare il ritmo gloria marconi quindi gloria marconi che aveva diciamo ormai non è più giovanissima anche lei però non demorde assolutamente per quanto riguarda questa questa competizione insomma che è una piaccia sicuramente non è non è molto veloce infatti viene dalla maratona e la mezza maratona non è una però i cross anche se l'anno scorso no quest'anno ha vinto campionato italiani master della propria categoria nel 1500 l'abbiamo visto sì sì un po di tutto sì però ecco qui sono e qui sono un pochino più giovane anche se la mahmoud mohmed odan anche lei è una quarantenne quindi diciamo qui il predominio diciamo delle dei master sul settore giovanile anche se abbiamo notato invece una beh un bel risultato per quanto riguarda la greta settino che addirittura al primo anno allieva primo anno allieva diciamo ha dato filo da torcere anche alla testa della corsa arrivando addirittura al 2003 sarebbe 2003 15 anni 16 16 anni quindi è un atleta che è fortissima insomma su tutti questi aspetti vediamo anche qualcuno forte vedremo quello che succederà insomma ecco che intanto vediamo sempre la testa della corsa con la marconi e poi la odanna poi al terzo posto abbiamo visto la cipollini poi la gretta settina che abbiamo visto anche la è una canuta un atleta di ponte di arezzo insomma ponticino si che corre con i colori dell'atletica castello che ha fatto un'annata anno scorso particolarmente positiva e questa ecco poi che intanto vediamo un altro scorso nelle nella passerella con la terza classificata è proprio la nato è tanto questa la greta settino ecco sì e qui via via si sosseguono un po le varie concorrenti qui lotta serratissima fino a metà percorso la metà percorso rimaste insieme poi c'è stato questo a lungo abbastanza deciso della mohamed mohamud odan che ha staccato di qualche metro la gloria marconi che vediamo un po il passaggio addirittura ecco vediamo le atlete che stanno transitando rispetto alle i primi che sono transitati il passo è un pochino leggermente appesantito anche queste variazioni delle gare tutte le gare i primi hanno un passo gli ultimi hanno un altro passo ecco che vediamo proprio il superamento della odanne nei confronti di gloria marconi mentre al terzo posto ancora resiste la viola cipollini mentre quarta la giovanissima greta settino si fa sotto poi ancora vediamo la bertoletti poi la canuto che era una posizione poi la ferretti caterina giacchi chiara ecco qui la giacchi chiara un'altra atleta sempre che è il 2005 sì 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 che poi olivieri cassandra ecco che sei per uscina per uscina che vorrei no esatto poi ancora abbiamo la morelli giulia dell'atletica castello del bravo costanza ecco così via e qui intanto vediamo all'ultimo giro la mohamud mohammed odan in testa le sue spalle ancora resiste la grone marconi si fanno sotto le altre due che sono la cipollini e la settino vediamo un po se riuscirà la marconi a contenere il recupero delle due inseguitrici vediamo che era un pochino si sono erano sembrava che arrivassero un pochino più sotto nella parte diciamo delle passerella 500 metri quindi a gara ancora abbastanza lunga vediamo anche la canuto qui ecco sembra ora va in scioltezza la odan la marconi che ancora tiene che nel diciamo il vantaggio nei confronti della coppia che la insegue la cipollini e la settino e che vediamo a braccia alzate si missa al successo dello scorso anno quindi anche quest'anno la odan mohamud e che passa in testa al grand prix vince ovviamente il campionato toscano di cross di cross corto un applauso per gloria marconi secondo posto veramente meritato terzo posto per questa giovanissima greta settino quarto posto per viola cipollini quinto per elena bartoletti sesto per la elena invece canuto poi abbiamo la caterina ferretti al settimo posto ottavo posto per la giacchi saria sarà nono per alessandra cassandra olivieri e decimo posto per giulia morelli e qui siamo passati all'ultima gara in programma quella del settore assoluto maschile anche qui a guerritissima gara veramente incerta con il leader del del grand prix in questo caso qui boccoli a cercare di salvaguardare un po la sua posizione di testa vedete partenze velocissime bocchi lo vediamo subito al secondo posto qui vanno veramente forti anzi perché c'era il ponticelli che sono parti sono partiti più da una gara proprio da quattrocentisti non tanto da mezzo fondisti e ovviamente vediamo proprio ecco di stacchi vediamo ecco avete visto abel murad che è dovuto ricorrere perché era ultimo questa posizione qui e qui intanto vediamo la nel settore maschile la il ritmo impresso dagli atleti sono un gruppetto comprendenti di boccoli lemmi gergut gasmi alari insomma sono tutti questi ragazzi che stavano conducendo la prova poi subito dietro c'era anche molto bene sia seghi che taos e zaccarina ria e il nuovo atleta diciamo della polisportiva di policiano e poi via via a seguire il vecchio intramontabile anche cardelli giuseppe insieme annetti alessandria qui vediamo intanto che boccoli sta conducendo la prova sul sul l'atleta della firenze maraton che era sempre lemmi e poi dintino e poi c'è da dire che l'anno scorso della città di griborno quest'anno ha cambiato società quindi a firenze maraton gli anni scorsi non ha fatto non ha fatto il campionato di cross i grossi apporati a quest'anno ecco dicevamo anche poi per gergut gasmi che sono andati molto 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 bene vedete questo percorso molto vario con queste varianti di ritmo che ovviamente si fanno si fanno sentire si fanno in questa in questa circostanza ecco qui vediamo gli atleti che fanno queste divagazioni con queste piccole salitelle che vediamo sempre boccoli a condurre la prova poi lemmi dietro poi gergut e poi ancora abbiamo visto dintino un pochino più staccato ecco e dintino quindi un pochino più staccato poi gli altri a seguire vediamo anche taos in questa quando superano questa passerella poi cannucci l'abbiamo visto anche lui protagonista per la corsa di natale qui è già un pochino più dietro quindi per far capire qual è il livello anche di partecipanti qui intanto vediamo murad che sta recuperando si è a metà percorso ma è ormai ha perso è difficile una gara questa è un 83esimo al primo giro ecco boccoli arrivato il 23esimo mi sembra quindi boccoli qui aveva perso già qualche qualche metro poi gas mi è andata molto molto bene poi ecco vediamo taos zaccaria vedete anche questo questo fossetto diciamo che può agli abbasso deve stare un pochino attente abbiamo visto proprio cannucci in questa questo frangente qui siamo in mezzo agli olivi vediamo il vecchio e qui vediamo la vittoria la vittoria per per matteo dintino della felice francese maraton poi secondo posto per boccoli della gala ponte d'era poi terzo posto ancora per luca lemmi delle referenze maraton quarto posto per ghergut e quinto gas mi sesto lari settimo seghi ottavo taos zaccaria nono grieco decimo notan pasquale gianmarco poi abbiamo visto terranova poi via via ecco si sossegono intanto vediamo che cannucci che va a completare la sua prova vedete gli stacchi tra il il primo e l'ultimo sono molto molto ridotti da fare e qui vediamo anche cardelli ancora tenacissimo vediamo grande atleta insieme alessandra lenta anche lui è partito in sordina poi piano piano poi murad arriva arriva adesso arriva quindi pensate ha fatto un recupero veramente provvidenziale se forse passiva con la testa della corsa può darsi ecco vediamo anche mori lorenzo e qui vediamo siamo alle fasi diciamo conclusive con le premiazioni vediamo ecco la befana che ovviamente presente ormai come tutte le competizioni della befana campestre e qui siamo alle premiazioni del poggio della categoria dei dei master veterani master e poi delle sia maschile che femminile vedete proprio la presenza anche di tante tante persone veramente che hanno fatto anche questo sicuramente influisce avere anche una struttura che può permettere diciamo recupero la parte dei concorrenti e degli atleti e qui sono stati premiati tutti concorrenti che sono rimasti in questa zona con varie varie premiazioni l'appuntamento è ovviamente alla prossima edizione di podismo e atletica